Ciao a tutti! Il periodo di accensione delle stufe si sta avvicinando, quindi è anche il periodo di mettere in ordine la legna in una catasta ordinata. Vediamo insieme come si fa a fare una catasta di questo tipo. Due parole su qual è il supporto migliore dove appoggiare la legna. Il concetto che il supporto dove appoggiare la legna stivata per l'inverno è che deve essere asciutto e areato. Con asciutto vuol dire che non dobbiamo appoggiarlo direttamente sulla terra. Quindi o lo appoggiamo su un piano di piastrelle, calcestruzzo, un piazzale, oppure se dobbiamo appoggiarci sulla terra il gran buone vecchio bancale. Il gran buone vecchio bancale è anche ottimo se lo appoggiamo sopra il calcestruzzo. Questo perché? Perché oltre a dare un supporto asciutto crea un sistema di areazione perché sotto rimane vuoto, l'aria passa da sotto, attraversa tutta la legna e tiene viva la circolazione dell'aria. Tenete conto che la legna secca e rimane secca non solo per le temperature ma anche e soprattutto per la circolazione dell'aria. L'aria che circonda la legna ha una determinata umidità. Se l'umidità dell'aria è minore di quella della legna, con la circolazione dell'aria l'aria se ne va più umida, torna aria più secca portando via ogni volta l'umidità della legna. È un ciclo che pian piano, perché ci vogliono uno o due anni per asciugare la legna, passa da legna umida a secca. Quindi anche per conservarla una volta che ci è già arrivata secca, dobbiamo stivarla in un posto che ce la tiene secca. Cosa vuol dire sostenuta? Te la faccio vedere nel video qui a fianco. È una pigna di legna dove noi dobbiamo essere in grado solo di fare un muro, perché a fianco abbiamo già dei muri dove andiamo ad appoggiarci solidi, quindi di sassi, di calcestruzzo, di quello che sia. Quella è la pigna più facile, tra virgolette, perché una cosa dobbiamo imparare, a fare un muro fatto dritto. E quella cosa lì serve sempre. Poi c'è la pigna autoreggente, come quella che vedete alle mie spalle. Qui non c'è nulla al suo contorno. Qui c'è aria e dalla parte apposta c'è aria e anche dietro c'è aria. Questa pigna ha quattro angoli. Cosa sono gli angoli? Sono quei punti qui che vedete alle estremità dove la legna è disposta in direzioni continuamente perpendicolari rispetto al muro. Adesso ve la faccio vedere dall'interno che l'abbiamo svuotata apposta per farvi capire com'è. Questo è il muro della pigna che termina con il pilastro, con l'angolo. Come vedete la pigna sta su da sola, dentro è vuota. Dentro la usiamo come un grande contenitore dove ci andiamo a buttare la legna sfusa, racchiusa tra i vari muri. Quindi questo è il caso più difficile di tutti dove dobbiamo avere un angolo, due angoli, tre angoli e il quarto angolo che vedevamo prima là fuori e in mezzo tutti i muri. Quindi per prima cosa adesso vediamo assieme come fare un muro e come fare un angolo. Per farvi vedere entrambi i casi utilizzerò quel lato lì per fare un pezzo di pigna sostenuta, quindi andrò a sbattere contro il muricciolo senza dover fare un angolo. Dalla parte opposta costruiremo insieme un angolo praticamente creando un lato autoreggente e un lato sostenuto, così vediamo tutto. La pigna adesso la andremo a fare con i legni di lunghezza 25 cm, è il taglio un po' più corto di tutti che si usa ed è anche il più difficile con cui fare la pigna, perché più è corto il legno meno è stabile. Quindi vi ho già anticipato una cosa, se avete la legna da 33 o da 50 è il metodo più facile per fare una pigna stabile. Col 25 dovete essere ancora più attenti. In ogni caso non è impossibile, adesso lo vediamo insieme. Cos'è che sto facendo? Allora sto utilizzando dei legni spaccati, sono quelli più adatti per fare i muri di legna. Se avete anche le parti rotonde del legno lasciatele nella parte posteriore. Non ha senso complicarsi la vita a lasciare i legni ancora più corti o storti davanti, si buttano dietro e fanno da riempimento. Davanti teniamo solo quelli belli che ci sono utili a fare il muro fatto bene. Adesso saliamo un pochettino e dopo iniziamo a commentare i primi problemi che troviamo. Allora come vedete sto salendo con la pigna piuttosto in verticale. Se deve pendere da un lato la pigna deve pendere verso dentro. Quindi se mi accorgo questa è una linea verticale questo muricciolo. Se deve andare verso dentro, perché deve andare verso dentro? Per contrastare la spinta dei legni che butto dentro. Questa si chiama scarpa, è la scarpa del muro. Vedete che è leggermente pendente in dentro? Questo serve che quando dentro abbiamo i legni tendono a spingere e ribaltare il muro, il muro penne in dentro e dentro non può ribaltare perché c'è altra legna. Verso l'esterno è contrastato perché dovrebbe tirarsi su in verticale e poi ribaltare. Non ce la fa. Quindi noi quello che dobbiamo controllare adesso è che lui rimanga con una pendenza costante verso il dentro. Cosa può succedere? Magari abbiamo un legno, perché succede, è legna. Ecco tipo questo che è un po' storto. Di qui è più cicciotto, di qui è più snello. Se io lo metto così, in un attimo ho cambiato la pendenza del muro. Se metto un legno così inizia a rovinare la pigna perché io dopo posso anche cambiare la pendenza un'altra volta verso l'interno. Ma cosa succede? Questo piano inclinato tende a farmi scivolare il muro verso il fuori. Se lo faccio una volta non succede niente. Se lo faccio ripetutamente mi viene giù il muro. Quindi cosa dobbiamo fare? Quando abbiamo un legno di questo tipo o lo scartiamo o piuttosto lo stesso tipo di legno riposizionato adesso o è parallelo al terreno o pende verso il dentro. Questo è tutto il gioco. Dobbiamo venire su verticali col muro e orizzontali col piano dei legni o al massimo un pelo verso il dentro. Tutto il sistema per fare un bel muro gioca su questo. Poi l'altra cosa è che sulla faccia davanti dobbiamo stare attenti che i legni siano tutti belli a filo. Si può fare ancora di meglio di quello che ho fatto io adesso però ovviamente dipende cosa dobbiamo fare. Io vi sto spiegando come fare una pigna che sia sicura che sia stabile e che tenga la legna in ordine. Non una pigna artistica anche perché non sono capace. come avete visto sono andato avanti tutto con la stessa logica che vi ho presentato prima. L'altro tricchettino che si può dire è il fatto di cercare di incastrare un po' tutte le punte come se fossero dei triangoli perché la legna spaccata ha sempre un po' del triangolo. Ma andiamo al sodo andiamo all'angolo. L'angolo che caratteristiche deve rispettare dovrà essere pendente sia in una direzione per così ma anche per così perché dovrà contrastare il muro che abbiamo costruito adesso verso di qua e il muro che costruiremo di qua verso il dentro. Quindi dobbiamo avere una doppia pendenza e dobbiamo con la stessa logica non dobbiamo mai venire in qui. Se no recuperare è un problema non è facile ed è pericoloso. Vi anticipavo che la cosa più difficile con legno corto da 25 è fare l'angolo perché fare l'angolo con legno da 25 vuol dire che praticamente ne mettiamo due. Due 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 molto piccolo. Quello che abbiamo visto all'inizio del video che era la legna da 33 ci stanno tre legni ogni volta che facciamo un angolo a volte quattro. Quindi per fare quello che ho detto riguardo la pendenza cosa dobbiamo fare? Il legno più esterno dovrà essere il più alto dei due che andiamo ad utilizzare. Quindi se all'esterno metto un legno alto tanto così all'interno dovrà essere un po' più piccolo. Qui quasi riusciamo a farcene stare tre quindi a sua volta quello interno dovrà essere ancora più piccolo. Praticamente abbiamo creato una pendenza verso l'interno. Stessa cosa dobbiamo farla che guarda di là. Quindi legno grosso sull'esterno legno più sottile verso l'interno e abbiamo creato un'altra volta una pendenza addirittura ve lo dico in questo caso esagerata. Bisognava metterne uno un po' più via di mezzo tipo questo e così a sua volta andiamo avanti continuando a iterare quello che abbiamo appena visto. Ebbene dopo che abbiamo fatto un paio di strati di angolo iniziare a riempire il muro perché l'angolo è più stabile nel momento in cui si è contrastato dal muro stesso perché diventa una struttura unica. E poi riprendiamo con un altro strato di angolo. Quindi il legno è il suo gemello un pelo più alto. Ovvio a un certo punto dobbiamo andare quasi orizzontali sennò esageriamo troppo con la pendenza. In questo caso va bene anche così. Cerchiamo di tenere sempre se guardiamo il legno vedete che è sempre un triangolo lo spacco dobbiamo metterlo con lo spigolo in fuori non così altrimenti la base di appoggio diventa molto più instabile altrimenti perché è molto piccola. Così praticamente ho raddoppiato la base di appoggio e quindi anche lo strato successivo diventa più facile. Così abbiamo esagerato troppo con lente all'interno. Ok adesso io ho fatto il muro solo su un lato dell'angolo per sorreggere e legare le due cose assieme. Sarebbe stato bello fare anche il lato di qui o perlomeno voi mentre state facendo la catasta di legna che poi dentro la dovete riempire della legna sfusa, della legna più brutta, della legna tonda, storta eccetera, certamente dovrete fare anche questo di muro. Comunque questo per farvi vedere sia come si fa ma sia per farvi vedere il fatto di come deve essere fatto. Se sta su così aggiungendogli il muro a fianco è ancora più stabile. Proprio rispetto a quello che vi ho appena detto difatti se noi facciamo la prova a muovere la pigna in questa direzione anche dove c'è l'angolo vedete com'è rigido. Se lo faccio in questa direzione vedete che è ancora molto molle. Vi ricordo che è legna da 25 è molto corta. Nel momento in cui aggiungiamo anche questo muro l'effetto è lo stesso anche in questa direzione diventerà rigido. Mi raccomando non fate il muro più alto di 50-70 centimetri senza buttare dietro niente perché il muro e il dietro iniziano a bilanciarsi gli sforzi. Il muro che penne verso il dentro e la legna dentro che spinge verso il fuori. così ogni volta è come ripartire un po' da zero. Riempacciamo il muro riempiamo dentro ci alziamo col muro riempiamo dentro e man mano andiamo subilanciati. Spero che il video sia stata un'ottima base per partire e iniziare a fare le prime cataste. Poi come in tantissime cose bisogna provare. Quindi queste sono le basi. Provateci poi al massimo riguardate il video un'altra volta e aggiustate il tiro ancora. In ogni caso se avete dei dubbi oppure avete dei trick migliori per riuscire a fare un lavoro migliore scrivete tutto qua sotto nei commenti perché interessa a noi ma interessa anche tutte le altre persone che guardano il video e leggono tutti i commenti. Io vi saluto qui e ricordati di lasciare un like se il video ti è piaciuto e se ti è stato utile e se non l'hai ancora fatto iscriviti subito al canale che è gratis. Grazie a tutti.